Buongiorno a tutti, oggi vediamo l'urlo di Munch. Edvard Munch nasce nel 1863 a Løten, un villaggio in Norvegia non lontano da Cristiania. La sua vita è segnata fin dai primi anni da gravi lutti. Perde la madre quando è ancora un bambino e a seguire la amata sorella maggiore, poi un fratello e infine il padre. Queste perdite lasceranno un vuoto incolmabile nella sua esistenza e lui stesso oscilla spesso tra crisi depressive e attacchi d'ansia, il tutto accentuato anche da un massiccio consumo d'alcol. Durante gli studi Edvard abbandona la facoltà di ingegneria per iscriversi alla scuola reale di disegno a Cristiania, entra nella cerchia di artisti e intellettuali bohemian della città e a vent'anni inizia a viaggiare. Prima vive in Francia dove conosce la pittura di Van Gogh e poi in Germania dove di fatto pone le basi per la nascita del futuro movimento espressionista. Sono gli anni cruciali in cui da un linguaggio impressionista si passa a una indagine dell'aspetto emotivo più profondo e prende piede un'accentuazione delle linee e del colore. Munch realizza più versioni dell'urlo, quella che vediamo qui è del 1893 ed è realizzata con colori a olio, tempera e pastelli su cartone. L'idea nasce da una sua esperienza vissuta durante una passeggiata con due amici all'ora del tramonto. Munch viene sopraffatto dai colori del cielo e da tutto il paesaggio. Deve essere stato un tramonto molto suggestivo perché l'autore stesso nel suo diario scrive il sole calava si era immerso fiammeggiando sotto l'orizzonte il cielo era di sangue sezionato in strisce di fuoco le pareti rocciose infondevano un blu profondo al fiordo scolorandolo in azzurro freddo giallo e rosso mentre i miei amici assumevano un pallore luminescente io ho avvertito un grande urlo realmente un grande urlo i colori della natura mandavano in pezzi le sue linee le linee i colori risuonavano vibrando e queste oscillazioni della vita non solo costringevano i miei occhi a oscillare ma imprimevano altre tante oscillazioni alle orecchie perché io realmente quell'urlo l'ho udito. L'autore quindi in preda allo sgomento si ferma e si appoggia alla balaustra della via che stava percorrendo lungo il fiordo immerso nel suo coinvolgimento emotivo mentre gli amici continuano a passeggiare indifferenti senza accorgersi delle pene dell'artista. vediamo un pochino meglio il quadro allora in primo piano c'è una figura umana in cui si può intendere l'azione dell'urlo ma non si può comprendere se sia un uomo o una donna se sia giovane o vecchio è una figura insomma poco definita la cui unica caratteristica chiara è il fatto che sta urlando. A rendere drammatico il suo urlo è lo stravolgimento dei lineamenti le orbite oculari infatti sono due cerchi senza profondità dai colori indefiniti non c'è il naso noi lo intendiamo perché ci sono due puntini neri a suggerire le narici ma il naso non c'è la testa sembra più che altro un teschio e anche parte del corpo è trasfigurata il busto è curvilineo non si comprendono i vestiti sembra che il soggetto indossi una tunica tunica che slancia la figura la smagrisce tanto da sembrare più che altro un volume senza forme questa figura curvilinea sembra male appena mantenersi in posizione retta quasi non avesse la spina dorsale le braccia sono piegate le mani appoggiate al volto in un gesto che contribuisce a dare drammaticità alla figura e da un lato sottolinea l'urlo dall'altro sembra quasi voler sostenere la testa o chiudere le orecchie insomma la persona qui non sembra semplicemente urlare ma pare stia vivendo un momento di vero e proprio terrore spostandoci sullo sfondo alle sue spalle verso sinistra si allunga una via molti lo definiscono un ponte ma in realtà è un sentiero sulla costa del mare che qui è lunghissimo ed è descritto con delle pennellate brune in lontananza due sagome scure che paiono ignorare come dicevamo prima il dramma vissuto dalla persona in primo piano e sulla destra c'è un paesaggio naturale c'è un di terra il mare e alcune piccole imbarcazioni sullo sfondo qualche riflesso della luce del sole e poi c'è il cielo il cielo è ciò che assieme all'espressione del protagonista dà il vero senso drammatico al quadro è striato di rosso giallo arancio molti ci vedono il fuoco l'autore stesso parlava di strisce di sangue insomma è un cielo che al di là delle proiezioni dell'osservatore è sicuramente molto coinvolgente nel complesso dunque l'urlo presenta un forte effetto espressivo e questo grazie all'accostamento di colori complementari rosso verde azzurro arancio e alla loro posizione nello spazio ci sono le tonalità calde nella parte alta del quadro poi gli elementi figurativi più freddi verso il basso i colori chiari sono collocati tutto intorno al volto del personaggio e così in questo modo viene esaltato agli occhi di chi guarda il personaggio inoltre è davanti alla strada e al parapetto strada e parapetto sono due elementi che gli stanno dietro fanno da sfondo e fanno sì che la figura non si confonda con tutto il resto del paesaggio vi è un netto contrasto anche tra le linee perché per esempio quelle dello sfondo naturale sono curviline e vengono interrotte dalle diagonali dalla geometria delle diagonali che vanno a costituire il parapetto il sentiero è interessante notare che l'andamento del personaggio in primo piano viene ripetuto dalle linee curve che riprendono le linee curve dello sfondo mentre le due figure che percorrono il sentiero seguono un pochino la verticalità del sentiero stesso e la loro verticalità fa eco ai parapetti del ponte e consegue che mentre l'ambiente sembra quasi voler partecipare al tormento che sta lacerando la figura in primo piano le due persone viste di spalle sono invece saldamente ancorate alla dimensione concreta della realtà quasi come se fossero insensibili ai drammi della vita si crea così uno stato di forte tensione emotiva messo ulteriormente in rilievo dalla contrapposizione delle linee quelle del sentiero che convergono dal basso verso i due personaggi sulla sinistra mentre quelli appartenenti alla figura in primo piano partendo sempre dal basso tendono verso il volto e le sue mani tutti gli elementi sono allo stesso tempo reali e irreali reali perché partono da dati plausibili della realtà l'essere umano il sentiero le due figure che camminano la natura il fiordo il tramonto ma anche i reali perché sono amplificati esagerati sconvolti le fisionomie sono la fisionomia è portata all'eccesso e l'interiorità che parla e la realtà è filtrata da uno stato emotivo per cui il soggetto principale non è nessuno in particolare ma allo stesso tempo può essere ciascuno di noi quale può essere la causa del suo dolore la causa può essere la paura il dolore che sono dentro di lui segniamo presente che i temi di smarrimento solitudine e incommunicabilità sono analizzati anche da molte menti illustri dell'epoca per cui erano temi affrontati da schopenhauer kirkegaard ipsen kafka freud l'urlo fu un grande successo e negli anni successivi il talento di munch viene riconosciuto a livello internazionale nel 1916 munch torna stabilmente in norvegia dove lavora senza sosta fino alla morte in una condizione di totale isolamento nella sua casa di campagna della sua vita edward munch diceva ho dovuto percorrere uno stretto sentiero lungo un precipizio da un lato le profondità del mare erano insondabili dall'altro c'erano campi colline case persone qualche volta ho lasciato il sentiero per buttarmi nel mondo vivente dell'umanità e lottare con esso ma sempre ho dovuto ritornare sul sentiero sul ciglio del precipizio e Grazie a tutti.